Presidente Mangia, c'è stato un inizio di stagione un po' turbolento a Sciacca per quanto riguarda alcune polemiche che si sono instaurate, prima fra tutte quella riguardante l'arrivo dei suoi turisti a Sciacca. L'arrivo, quest'anno la stagione non si presenta bene come gli altri anni, ma abbiamo un mese di aprile e maggio un po' più ribasso rispetto all'anno prossimo, ma da giugno sono alquanto ottimista che la stagione ricomincia, fra l'altro il tempo così non mite, che oggi è una giornata fredda, ha influito pure su questo. E per quanto riguarda invece l'arrivo a Sciacca dei suoi ospiti, adesso cosa è cambiato in concreto? In concreto è cambiato questo, l'Eterno da sempre veniva qua, ora la legge regionale dice che non può entrare in una zona privata, quindi si deve fermare prima della sbarra, anzi addirittura nella nazionale, perché lui è alla concessione fino alla nazionale. E noi non possiamo tenere a prigionire i clienti, e poi abbiamo, come sempre abbiamo fatto, vogliamo che questi clienti vanno a Sciacca, sia per creare vantaggio a Sciacca, sia per i clienti stessi. Quindi abbiamo studiato una navetta nostra, al nostro rischio, a nostre spese, per portare questi clienti a Sciacca. Almeno mi pare che sono quattro navette, più in estate, fino a mezzanotte. Un pullman di 50 posti, un pullman piccolo, i clienti vanno continuamente a Sciacca, con un sistema più confortevole, perché lì viaggiano all'impiede, perché era un pullman di linea, poi un pullman di gran turismo, comodi, arrivano al mercato, scendono e lo potete vedere giornalmente. Lei in questi 25 anni ha constatato una certa abitudine dei saccensi anche a lamentarsi, diciamo, spesso? Sì, sì, è un'abitudine. Io sono arrivato qua e ho trovato Sciacca, Sciacca Mare, che era la passeggiata dei sciacchensi. Dopodiché ho scoperto che la strata era privata, era nostra, perché l'ho comprata assieme agli alberghi. Il tribunale ha deliberato come era giusto che la strata è privata. Ma noi non è che non vogliono fare entrare qui le persone, ma questo è un albergo, i clienti pagano per venire qua, quindi ho messo una sbarra per disciplinare il traffico, possono entrare qui le persone che sono interessate o per soggiornare o per portare mercanzia o altro, ma non la passeggiate tutti. Qui c'erano i motorini che correvano a tutta velocità, venivano, era Sciacca Mare, il punto di ritrovo dei gestioni di Sciacca. Noi circa diamo 700 mila euro in tasse di soggiorno. Ho detto al sindaco che io stesso guardi, raddoppia i tassi di soggiorno, ma almeno rifaccia la strata per l'accesso, abbellisce l'ingresso in questa zona turistica. È uno dei poli turisti più importanti della Sicilia ed è completamente abbandonato. Ho scoperto ieri che Sciacca incassa circa un milione e qualcosa di tassi di soggiorno, neanche una lira è dedicata all'aspetto turistico della cittadina. Questo è un vero peccato, un vero immaturità di chi dirige.